benvenuti il nostro caffè buongiorno e bentrovati c'eravamo lasciati il video scorso dove abbiamo fatto una semplice infarinatura sulle aste proprio perché si tendono a confondere queste due cose e oggi parliamo invece di una categoria di immobili che noi vendiamo spesso che sono gli immobili che sono sostanzialmente dei leasing che non sono stati pagati e quindi la banca li reimpossessa in questo caso non è un'asta gli immobili sono già della banca perché quando si fa un leasing il leasing compra l'immobile al posto nostro l'immobile torna nella disponibilità della banca e la banca come un qualunque soggetto privato è libero di vendere il proprio immobile anche qui se volete approfondire maggiormente tutti quelli che sono questi aspetti scriveteci possiamo anche fare degli altri video in questo caso avremo anche qui un valore ovviamente la banca si avvale dei propri periti non andiamo in asta pubblica ma è una trattativa tra privati c'è domanda offerta e la banca essendo un soggetto privato è tenuto a fornire quantomeno la garanzia di conformità catastale ed urbanistica inoltre è una vendita quindi c'è anche una diversa imposizione fiscale generalmente è una vendita soggetta d'iva per cui se sono due soggetti iva va in reverse anche in questo caso se volete un approfondimento chiedetecelo e poi ha le normali imposte catastali e ipotecarie ma anche in questo caso c'è una piccola agevolazione perché se è appunto la stessa banca che vende l'immobile le ipotecarie le catastali che generalmente sarebbero 3 più 1 quindi il 4 per cento vanno in misura fissa 200 euro 200 euro e 200 euro compreso l'imposta di registro perché quando c'è iva non c'è imposta di registro di conseguenza il rogito è un rogito molto snello non c'è il passaggio di soldi per l'iva e questo la rende anche molto interessante sia per fare un ulteriore leasing ma per esempio se qualcuno volesse fare il mutuo perché a livello di flusso di cassa non abbiamo il 22 per cento di iva più il 4 per cento di posto insomma parliamo quasi di un 30 per cento tra una cosa e l'altra che a livello di flusso di cassa non passano se volete maggiori informazioni fatecelo sapere siamo pronti a rispondere alle vostre domande e ricordate toscano per l'impresa il gruppo che fa muovere le aziende a presto